ben ritrovati a punto di contatto dunque siamo nei giorni del picco di cosa dell'influenza gran parte degli italiani sono a letto molti affollano anche i nostri pronto soccorso in alcuni casi dando luogo a vere situazioni di emergenza al san camillo di roma questa emergenza è sfociata in una protesta clamorosa ci spiega cosa è successo adriano fiorini che è rappresentante sindacale della cis l'fp presso appunto l'ospedale san camillo di roma buongiorno fiorini buongiorno a voi quello che succede al san camillo purtroppo è quello che potrebbe succedere in questo momento in qualsiasi ospedale di questa nostra città città di roma e della regione lazio quello che abbiamo segnalato ormai da due anni a questa parte ha trovato negli ultimi mesi purtroppo una situazione più che emergenziale con punte di oltre 100 persone in attesa per un posto letto attesa che viene consumata per lo più nei corridoi del pronto soccorso con barelle e posti letto di fortuna abbiamo visto immagini drammatiche con materassi a terra quello che abbiamo fatto allora come cisle aziendale e unitariamente insieme all rsu è stato propriamente portare ad un livello più alto il nostro la nostra protesta e da qui l'occupazione della direzione generale è una serie di iniziative sindacale che hanno come obiettivo quello di ottenere dalla nostra direzione e dalla regione lazio il tavolo il confronto per risolvere non solo la situazione emergenziale ma evidentemente un progetto anche a medio e lungo termine quindi avete occupato la direzione aziendale una cosa che non ha precedenti fino adesso che tipo di risposte avete avuto insufficienti dalla nostra direzione generale abbiamo ottenuto cinque infermieri a contratto co 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 e per soli due mesi una un progetto a tutto da verificare nella sua bontà e purtroppo da parte della regione ancora nessun tavolo di confronto vero è che la situazione ripeto il san camille simile a quella di altre strutture nella nostra regione la politica dei tagli l'incompletezza in effetti del piano riorganizzativo del servizio sanitario regionale sono i due elementi principali insomma che pesano sulle spalle di tanti lavoratori infermieri tecnici ausiliari cioè tutte figure che mancano da tanto tempo e in misura davvero in questo caso grave mancano mancano quindi infermieri manca personale mancano anche posti letto a questo punto sì negli ultimi cinque anni nella nostra azienda abbiamo visto il taglio di circa 350 posti letto evidente che questa situazione si ripercuote direttamente nella maniera con cui è possibile affrontare a questo punto non affrontare le emergenze e le richieste dei nostri cittadini di roma del lazio nel pronto soccorso ma evidentemente si ripercuote questa situazione in tutte le specialità cliniche che pure andiamo un po per numeri per le persone che non sono della regione per capire che dimensioni ha questo ospedale e quanta quanta popolazione a quanta popolazione si rivolge dunque il nostro ospedale in questo momento conto 850 posti letto e comprendiamo anche i letti di dei hospital soltanto nella prima settimana di gennaio che è una settimana caratterizzata da diverse festività noi abbiamo riscontrato oltre 800 richieste di ricovero e in una situazione come quella attuale è evidente che non possiamo più dare le risposte che al contrario il nostro ospedale era abituato a dare il san camillo è un'azienda che sicuramente di rilevanza per la nostra città di roma ma anche per la regione lazio ad esempio l'attività trapiantologica cardiaca è l'unica che viene svolta esclusivamente nel nostro ospedale quindi trapianti cardiaci solo a san camillo? soltanto a san camillo nella nostra regione e anche questo servizio purtroppo proprio per il problema delle carenze in questo caso di cardioperfusionisti entrerà in parte già entrato in crisi negli ultimi mesi ecco perché l'occupazione ecco perché una richiesta di incontro urgente non è più soltanto un problema di un ospedale o di una città ma di una regione intera che si confronta con la perdita di posti letto e purtroppo di risposte assistenziali che non riusciamo più a dare è una prima risposta però non so se in qualche modo collegata alla vostra protesta o meno da parte della regione c'è stata negli ultimi giorni è emersa la notizia che la regione intende avviare un'indagine utilizzando l'inps su una serie di certificati medici che il personale del san camillo ha presentato perché ci sono mansioni che non potrebbero svolgere questo alla fine finisce poi con pesare ulteriormente sui dipendenti quelli efficienti al 100% aggravando quindi questa sì sono una notizia purtroppo che non fa nient'altro che aumentare il conflitto e non ci aiuta a risolvere la situazione conoscevamo e abbiamo già più volte presentato progetti in questo senso il problema di diverse centinaia di operatori ma parliamo di persone che hanno 20 oltre anni di servizio trascorsi per lo più nelle corsie quindi nei servizi di front office ebbene persone, colleghi che hanno delle limitazioni andrebbe detto però che la maggior parte di queste sono attivamente utilizzati e praticamente utilizzati nei servizi assistenziali quindi non parliamo di persone in panchina continuiamo a parlare di operatori che lavorano nel loro settore di appartenenza il problema vero è che per alcuni di questi è vero abbiamo avuto dei problemi nel corso degli anni che hanno portato delle limitazioni ma nonostante questo abbiamo fatto una serie di progetti per portare diciamo dei servizi direttamente sul territorio e impiegando questo personale bene negli ultimi 5 anni non abbiamo avuto mai risposte concrete e complete sul nostro progetto questa potrebbe essere per esempio una buona occasione per rilanciare anche questo tema certo dobbiamo affrontare il problema però delle emergenze e non lo si risolve con gli articoli che leggiamo in questi giorni quindi non lo si risolve con la polemica ma con un fare più positivo e più costruttivo quindi istituzioni latitanti potremmo concludere così noi in genere finiamo la puntata con un appello da parte del rappresentante sindacale veda lei a chi? alle istituzioni? alla direzione generale? sì è facile farlo nel senso che noi abbiamo chiesto e ribadiamo anche la sostanza della nostra protesta, della nostra occupazione due tavole di confronto un aziendale per definire un progetto che ci aiuti a risolvere l'emergenza ma anche a progettare l'ospedale che sarà nel medio e lungo periodo e un altro tavolo regionale con i nostri responsabili i nostri leader regionali per discutere del sistema salute della nostra regione speriamo che la regione cambi rotta che Zingaretti esca dalla politica degli annunci e si confronti con le organizzazioni sindacali perché di questo i lavoratori hanno bisogno di questo hanno bisogno anche i cittadini che sono poi le due facce della stessa medaglia le due facce dello stesso problema bene, io ringrazio Adriano Fiorini per essere stato con noi vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con una nuova puntata di Punto di Contatto ricordo, se volete raccontare che cosa succede sul vostro posto di lavoro potete scrivere a labor.tv chiocciolacislo.it grazie per averci seguito e una buona settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti